Oggi è sabato 29 agosto 2020. Nessun giorno ha un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 29 agosto 1706. Durante la guerra di successione spagnola, dopo la morte senza eredi sei anni prima di re Carlo II d'Asburgo, Torino è sotto un pesante assedio da parte delle truppe francesi. Per cercare una via per introdursi nella cittadella fortificata, gli assedianti si insinuano in un conicolo. La loro intenzione è quella di far capitolare i torinesi, assediati dal 14 maggio, prima dell'arrivo dei rinforzi, che sono in procinto di arrivare dopo aver sconfitto le truppe nemiche in vari scontri. Nella notte, tra il 29 e il 30, una squadra di granatieri nemici entra in una galleria sotterranea della cittadella, dopo aver sopraffatto le sentinelle che la presidiavano. Arrivano a una porta in fondo alle scale e cercano di sfondarla per proseguire. Dall'altra parte della porta, a presidiare il passaggio, sono due soldati dell'esercito Sabaudo. Uno di loro è un muratore, arruolatosi nella compagnia minatori dell'esercito, Pietro Micca. Insieme al commilitone decide di far esplodere una carica di polvere nera per provocare un crollo e bloccare il passaggio. Il suo compagno, per l'emozione e per l'umidità del luogo, non riesce ad accendere la miccia e ha lunga combustione, che avrebbe dato ad entrambi il tempo di allontanarsi. E intanto i nemici stanno per riuscire nell'intento di sfondare la porta. A quel punto, Pietro Micca fa allontanare il suo commilitone e accende la miccia a rapida combustione. L'esplosione lo raggiunge mentre sta correndo lungo la scala che porta al cunicolo sottostante e lo uccide. Ma l'obiettivo è raggiunto e i granatieri francesi restano bloccati. Il 7 settembre, grazie a questo episodio, le truppe piemontesi in arrivo hanno il sopravvento sugli assedianti. Con il Trattato di Utrecht del 1713, il duca Vittorio Amedeo II di Savoia ottiene il titolo di re di Sicilia e in seguito quello di re di Sardegna. L'assedio di Torino è considerato dagli storici l'evento che segna l'inizio del risorgimento. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio dell'Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.